amiche e amici ben trovati nel nostro podcast con cui affrontiamo e cerchiamo di analizzare in pochi minuti quelli che sono i fatti di cronaca attuali o comunque gli eventi che in qualche modo ci fanno discutere beh nei giorni scorsi sicuramente la scena è stata lasciata dal covid la guerra in ucraina sembra passate in secondo piano perché ad alimentare le discussioni sui social è stato l'evento degli oscar dove will smith ha dato uno schiaffo a chris rock reo a suo dire di aver fatto una battuta indelicata sulla malattia della moglie ora dando per buono il fatto che questo sia un evento reale e non ideato a tavolino per aumentare l'audience di uno spettacolo che effettivamente negli ultimi anni aveva un po perso di smalto e quindi immaginando che tutto ciò sia venuto effettivamente i dubbi ci sono per tutta una serie di motivi per il fatto che chris rock non ha sport o denuncia e sappiamo che gli americani insomma sono abbastanza facili nel ricorrere alle idee legali da questo punto di vista per il fatto che l'academia non ha preso nessun provvedimento contro will smith anzi addirittura poi lo ha premiato con un oscar insomma si pensava che ci fosse stata qualche conseguenza così non è stata d'altronde sappiamo benissimo che soprattutto nella tv commerciale non poche trasmissioni alimentano litigi discussioni offese e se non li alimentano esplicitamente certamente insomma non fanno molto per limitarli le prove sono sotto gli occhi di tutti e se nell'agitazione sportiva nel furore agonistico ci può stare anche uno scontro duro o una reazione distinto a un'offesa ricordiamo una per tutte la testata di zidane a materassi appunto nel mondo dello spettacolo spesso si vedono delle reazioni che sono un po sopra le righe a volte appunto veramente il sospetto che siano un po gonfiata d'arte c'è anche qui cito una per tutte antonio zechila che si lanciò contro adriano pappalardo reo appunto a suo dir di aver offeso la mamma e nelle discussioni nei talk ormai è d'uso vedere che i toni si alzano anche da parte di persone che effettivamente ci darebbero tutt'altra impressione a ulteriore esempio appunto uno per tutti chicco testa che minaccia mario tozzi mentre si parla del nucleare ora diciamo che il clima è quello che è ed è sempre più difficile affrontare un discorso con toni pacati l'evento però che ha visto appunto contrapposti chris rock e swill smith ripropone tutta una serie di temi che abbracciano appunto dei concetti generali che vanno oltre il fatto specifico primo tra tutti la satira l'ironia l'umorismo deve avere dei limiti il comico deve fermarsi di fronte ai dolori del singolo alle tragedie della comunità ci ricordiamo lo scandalo suscitato dalle vignette di charlie hebdo all'indomani dei terremoti che colpirono l'italia chi ha qualche anno in più ricorderà le polemiche suscitate da tanti spettacoli di daniele lutazzi e ancora le copertine del male di riviste satiriche simili che certamente non ci andavano leggeri insomma diciamo che da che mondo è mondo la satira fa male ovviamente a volte fa male al singolo a volte fa male alla comunità di certo il problema è innanzitutto un problema di prossimità e questo vale per tanti tanti aspetti è ovvio che la battuta che può far ridere tutti diventa meno divertente per chi è parte in causa e se nel caso in specie chris rock ha fatto una battuta sulla alopecia di jade pink quindi sulla perdita dei capelli della moglie di willie smith che ha detta di molti commentatori non è certo un male incurabile o una patologia dolorosa dall'altra parte chi è affetto da questo stesso problema o da problemi simili lamenta il fatto che comunque psicologicamente è un malessere non indifferente che quindi chiaramente non ci trova nulla da ridere alla stessa maniera ricordiamo in italia quanti vip quanti persone pubbliche quanti politici sono stati oggetto di scherno per le loro caratteristiche fisiche ci sono movimenti politici che hanno basato la loro propaganda sul dileggio e sull'offesa ricordiamo lo psiconano di arcore ricordiamo fassino paragonato a uno zombie ricordiamo le tante battute sull'altezza di renato brunetta e ancora qualche d'uno notava che fortunatamente tra virgolette ironicamente ovviamente questo scontro tra chris rock e will smith ricorda riguardava due afroamericani ma se al posto di uno dei due ci fosse stato un caucasico un ispanico un asiatico le cose come sarebbero andate e se al posto di uno dei due ci fosse stata una donna le cose come sarebbero andate perché per fare un esempio determinate battute di una donna contro un uomo possono essere tollerate e non viceversa anche questo è un interrogativo che molti si pongono e l'interrogativo che altri si pongono è il personaggio pubblico deve porre dei limiti alla sua vita privata riviste di gossip sappiamo benissimo frugano nell'intimità più personale delle persone è giusto questo questo voyeurismo in cui ognuno si sente libero di spiare nella vita di un attore di un politico di un personaggio pubblico anche quando magari questo racconta le sue storie ultimo caso lo ricordiamo Fedez che ha annunciato la sua malattia ma quanto è giusto andare oltre quello che il diretto interessato racconta per andare a scoprire particolari che magari la persona vorrebbe tenere nascosta questo ci riporta anche a altre situazioni ricordiamo quello che succede nei casi di revenge porn quando dei filmati delle foto intime vengono diffuse per vendetta per fare male fino a causare a volte anche il suicidio della vittima inconsapevole ricordiamo uno per tutti quello che è successo a tiziana cantone che si è vista addirittura non solo i suoi video pubblicati su piattaforme porno ma addirittura una frase che lei pronunciava in uno di questi video diventata un meme virale riprodotta su magliette su tazze su gadget fino a che questa situazione è diventata insostenibile e tiziana cantone si è suicidata ultimo caso carol maltesi una ragazza di meno di 30 anni che aveva scelto liberamente di fare l'attrice di video erotici che è stata massacrata da un vicino di casa e su questa questa vicenda un comico ha pensato di fare una battuta su twitter una battuta davvero davvero infelice che gli è costata lo sdegno sui social e anche l'esibizione che avrebbe dovuto fare in un locale pubblico di milano quindi ancora una volta la satira l'ironia deve avere dei limiti ovviamente non c'è una risposta e deve essere affidata alla sensibilità del simbolo molto spesso come dicevo la sensibilità è una funzione della distanza possiamo scherzare sul terremoto in giappone ma non su quello che è avvenuto in abruzzo possiamo scherzare sui bambini che muoiono di fame in africa ma magari non quelli che abbiamo sotto la porta di casa nostra come si suol dire fa più male una martellata sul dito a me che non una gamba rotta di un altro è il caso però di chris rock e will smith ha aperto anche un'altra discussione ovvero quelli che sono i rapporti tra uomo e donna perché da una parte ci sono stati coloro che hanno detto di essere dalla parte di will smith di aver considerato il suo gesto come un gesto di protezione nei confronti della moglie quindi will smith un po cavaliere un po principe azzurro che deve prendere la difesa appunto della donzella sola e inerne chi considera addirittura la gelosia un segno d'amore che quindi vede in una mancata reazione un segno di disinteresse dall'altra parte c'è chi l'ha considerato un gesto sconsiderato perché espressione di una sorta di patriarcato ormai da superare perché will smith ha parlato di mia moglie quindi come di una persona che gli appartenesse non ha citato il nome della moglie ma ha detto mia moglie come se chris rock avesse come dire rigato la sua macchina faccio un gesto estremo e quindi anche in questo caso qualcuno diceva beh se la diretta interessata che era lì presente non ha accennato nessuna reazione perché deve reagire il marito ovviamente anche qui la risposta può essere sia di diverse sensibilità sia di diversi modi di agire e questo ancora ci riporta a discutere di altro perché se è vero che l'ironia può essere offensiva anche la galanteria e i complimenti portati all'eccesso possono diventare disturbanti vogliamo ricordarne anche qui un caso per tutti bruno vespa che nel chiamare sul palco in occasione di un premio campiello una giovane scrittrice silvia avallone premiata per il suo romanzo quindi per una sua opera di genio di intelletto invitò in diretta la regia a fare un primo piano del decoltè di silvia avallone perché appunto secondo bruno vespa era uno spettacolo che meritava di essere mostrato beh una galanteria evidentemente molto fuori luogo tant'è che in quell'occasione michela murgia non si fece sfuggire l'occasione di rimarcare l'inopportunità di questo commento così come fecero altri poi in occasione quindi ovviamente come dicevo non c'è una risposta univoca quello che però è interessante notare è appunto ancora una volta la polarizzazione della discussione sui social per cui si condanna o si assolve quasi a prescindere senza cogliere l'occasione di fare un'analisi pacata di quelle che sono le cause di quelli che sono gli effetti di questi comportamenti e magari mettersi in discussione chiedersi io avrei fatto quella battuta come avrei reagito io se fossi stato nei panni di will smith fortunatamente la faccenda è finita lì non si è scatenata una rissa non si è cazzata chissà che cosa sarebbe successo dopo però ripeto sicuramente l'occasione può essere interessante per riflettere su quelli che sono i costumi attuali oggi assistiamo a una cambiamento direi epocale in tempi brevissimi un film che è solo dieci anni fa vent'anni fa veniva accettato tranquillamente oggi non sarebbe più passato dalle maglie della censura ricordiamo via col vento tolto dai cataloghi della hbo perché sembrava razzista ma basterebbe vedere un film con un free bogart dove il protagonista schiaffeggia le donne le tratta quasi come oggetti beve fuma per immaginare che cosa potrebbe succedere oggi di fronte una pellicola del genere o i classici cine panettoni film dove vengono appunto presentate delle gag delle scenette che offendono omosessuali piuttosto che persone di etnia diversa insomma e dieci anni fa vent'anni fa tutto questo faceva ridere oggi sicuramente creerebbe scandalo allora è giusto è sbagliato è opportuno non è opportuno lo ripeto ancora una volta credo che una risposta un iovoca non ci sia e si tratti sempre di ragionare sulla singola sensibilità quello che è importante che credo dovremmo fare tutti noi di fronte a questi episodi cogliere lo ripeto ancora una volta l'occasione per riflettere su quelli che sono i nostri comportamenti le nostre reazioni i nostri preconcetti analizzarli prenderne atto ed eventualmente lavorare se riteniamo che ci siano appunto delle situazioni che andrebbero come dire corrette resi più opportuni io vi ringrazio per l'attenzione come sempre la nostra intenzione non è quella di fornire risposte ma di stimolare domande e quindi se avrete voglia di dare la vostra opinione di commentare quelli che sono state le mie riflessioni mi farà piacere discutere insieme a voi io intanto vi ringrazio e vi do appuntamento al nostro prossimo podcast ciao